In quel tempo Gesù, alzati gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del Tempio. Vide anche una vedova povera che vi gettava due monetine e disse, in verità vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Grazie a tutti. Non era facile la vita delle vedove a quei tempi. Certamente non l'hai mai stata, neppure oggi. Ma ai tempi di Gesù, essere vedova significava perdere ogni diritto, non avere più un'appartenenza ufficiale. Significava essere soli non solo sul piano esistenziale, ma anche sociale. Ecco questa vedova, oltre ad essere completamente sola, è anche povera. Non ha più nessuno da amare e non ha più nulla per sostenersi. Gesù la osserva e da lei impara. In realtà Gesù osserva anche i ricchi che gettavano le loro offerte nelle casse del Tempio, ma di queste non commenta. Della vedova, invece, non può non tacere. È come toccato in profondità. Direi che per Gesù questa donna è una grande testimonianza di vita e di come ci si consegna la morte. Perché dico questo? Ricordiamoci che siamo negli ultimi capitoli del Vangelo di Luca. Gesù prepara la sua dipartita. Come fare? Cosa fare? Non credo gli fosse così tutto chiaro. Come tutti noi, anche lui ha imparato dai segni e dagli incontri di ogni giorno. Gesù, attento scrutatore degli uomini, coglie dall'umanità più vera e più bella gli spunti per la sua missione. Cosa impara da questa donna? Impara a donare tutto. Gesù non farà come i ricchi che donano il loro superfluo, donando qualcosa. No, Gesù farà come la vedova che dona tutto quello che aveva per vivere. Quindi non dona qualcosa, ma dona se stessa. Sì, Gesù farà così. Donerà la sua stessa vita. Gesù farà come i ricchi che donano il loro superfluo, Gesù farà come i ricchi che donano il loro superfluo. Ricordato il vostro superfluo. Grazie a tutti.